Dal menu amministratore è possibile aggiungere un alunno a una classe già esistente. Dobbiamo cliccare su gestione alunni, poi scegliere aggiungere, esegui, vedete l'elenco di quelli già esistenti, di nuovo un'altra volta scegliere aggiungere, quindi due volte attenzione, poi mettere le righe vuote da aggiungere, in questo caso una, conferma, poi facciamo scorrere l'elenco, vediamo la riga vuota, mettiamo il nome e il cognome dell'alunno da aggiungere, l'username e la password, e alla fine clicchiamo su conferma. A questo punto abbiamo aggiunto il nostro alunno, Jacopo Todi. Ricordiamoci sempre di confermare ogni operazione. Ricordiamoci sempre di conferma.